Un minuto esatto alla fine della partita, un attimo fa doppio cambio da parte di Boscov, è entrato Salza nel posto di Giannini che tra l'altro sembra non aver gradito, non si è voluto neppure sedere in panchina accanto al suo allenatore e poi, e questo diciamo è il fatto storico, vogliamo un po' esagerare, è uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti che quindi conosce il giorno dell'esordio in una giornata, chiamiamola di gloria, sto parlando un po' di retorica oggi, di gloria romanista una vittoria fuori casa, almeno così dovrebbe essere a 20 secondi dalla fine, Roma saldamente a colmando con due gol che si assegna il primo tempo da Canigia e Michalovic, ricordiamo che Francesco Totti è stato protagonista della trasferta proprio ieri della trasferta della primavera giallorossa, segnando tra l'altro il gol della vittoria da Roma